Allora stiamo facendo un commentario sulle quattro nobili realtà, in particolare questa sera parleremo della seconda nobile realtà che è la realtà dell'origine della sofferenza. Il Buddha dice che l'origine della sofferenza è il desiderio avido, quindi è il nostro desiderio, il quale è naturalmente spinto dal piacere, quando noi vogliamo realizzare dei desideri vogliamo sempre essere soddisfatti, provare piacere e sempre alla ricerca di nuove sensazioni, noi siamo sempre portati a cercare delle soddisfazioni, quando abbiamo raggiunto un certo grado di soddisfazione in una disciplina, in un settore, in una parte della nostra vita ecco che ci viene il desiderio di tentare altre vie, di cercare altri campi, altre destinazioni e qui, e da qui nasce naturalmente la sete del piacere, in genere il piacere si prova con i sensi, normalmente sono i cinque sensi che noi conosciamo ai quali va anche aggiunto naturalmente il senso della mente, quindi i sensi sono sei. Quindi nella nostra ricerca di piacere dei sensi noi comprendiamo tutto quello che può destare in noi delle emozioni, delle sensazioni piacevoli, ma non teniamo mai conto che da una condizione piacevole, si sviluppa poi proprio per naturale cambiamento, un deterioramento della circostanza, una fine dell'avvenimento che ci porta poi a soffrire. Difatti se noi avessimo ben presente le dinamiche degli avvenimenti, come l'altra parte le dinamiche dei fenomeni fisici, tutto inizia, poi ha uno sviluppo e poi a un certo punto comincia a declinare e poi si trasforma. E noi non crediamo mai che queste cose si verifichino intanto per le cose che riguardano noi, le cose piacevoli che ci riguardano durano eternamente e poi invece quando c'è la trasformazione soffriamo. Quindi un desiderio che a un certo punto ci porta a cercare una soddisfazione, anche se è realizzato, poi dovrebbe naturalmente vedere lo scemare dell'energia legata a questa soddisfazione e nella trasformazione e nello scomparire di questa soddisfazione noi proviamo dolore, proviamo sofferenza. E quindi è sicuro che il desiderio avido è la causa principale della sofferenza, chiamiamolo anche attaccamento ai piaceri dei sensi proprio. E quindi noi dobbiamo tener conto del fatto che quando siamo spinti, sollecitati dal desiderio, la nostra mente entra in una condizione di grande confusione e il desiderio brucia tutte le nostre emozioni, ci rende schiavi e ci rende impossibilitati all'equilibrio mentale. E questa è la ragione principale dell'offuscamento della nostra mente. Quando noi abbiamo questo desiderio avido per qualcosa, entriamo in confusione, la nostra mente viene oscurata e questo offuscamento ci porta naturalmente verso la sofferenza. Allora a questo punto, sulla base di questo desiderio che ci spinge, che ci anima, nascono in noi emozioni differenti, nascono delle congetture, facciamo dei ragionamenti, delle riflessioni, sogni, è un desiderio non realizzato, anche incubi, che ci portano naturalmente a soffrire. Nel momento in cui noi abbiamo un desiderio, già cominciamo a soffrire perché non l'abbiamo ancora realizzato, quindi l'impazienza di realizzare. Poi quando l'abbiamo realizzato cominciamo a essere preoccupati che non finisca troppo presto e quindi abbiamo la sofferenza della durata di questa situazione. Quando poi comincia, come abbiamo detto prima, a declinare l'effetto del desiderio realizzato, soffriamo perché siamo privi di questa cosa. E allora a un certo punto ecco che anche il desiderio legato alla più importante delle nostre scelte, a un certo punto non diventa realizzazione e gioia, ma diventa in qualche modo sofferenza nel tempo, nello sviluppo delle cose. Quindi noi sappiamo che quando noi ci poniamo in questa linea di pensiero e di comportamento, siamo sicuramente esposti proprio dalla sete di esistenza e dall'attaccamento a delle conseguenze che sicuramente ci porteranno a patire. Quindi noi vogliamo che tutte le cose durino eternamente, vogliamo che soprattutto le cose piacevoli, i nostri amori, i nostri lavori, pensate un po' a tutto quello che noi nella nostra vita abbiamo in qualche modo realizzato e che poi abbiamo voluto che durasse sempre e invece poi si è trasformato. Troviamo un lavoro, i primi mesi ci sembra di aver trovato il lavoro più bello del mondo, poi scopriamo che tutti gli ambienti di lavoro sono uguali e quindi a un certo punto già sparisce l'entusiasmo. Compriamo la casa nuova e poi magari, che so io, arrivano dei figli e diventa troppo piccola. Compriamo l'automobile nuova e qualcuno c'è la riga e andiamo a smattere, ci accontentiamo di poco per essere felici, ma anche questo poco poi a un certo punto diventa insufficiente per la nostra esistenza, il discorso dei due cuori e una capanna non funziona mai già dall'origine, la capanna è sempre troppo stretta e i due cuori convivono difficilmente e quindi ecco che a un certo punto noi dobbiamo sapere, dobbiamo aspettarci che proprio per il naturale sviluppo delle situazioni ci sia questa dinamica, le situazioni nascono, però poi a un certo punto dopo aver raggiunto il loro punto di sviluppo principale declinano e poi si trasformano e quindi la nostra sete di esperienze è un atto di intanto illusorio perché vogliamo che le esperienze durino sempre e siano le migliori, ma poi è anche un atto di volontà karmico che genera delle conseguenze, quindi quando noi spinti dalla nostra volontà desideriamo qualche cosa e abbiamo l'illusione che possa durare sempre, a un certo punto facciamo anche delle azioni o delle considerazioni, quindi le azioni in genere sono fatte con il corpo, la parola e la mente e dunque i pensieri già inquinano un po' il nostro stato di equilibrio e tante volte per ottenere quello che vogliamo siamo pronti a fare anche delle azioni non estremamente etiche, cercando di curare il nostro interesse particolare ed è proprio da queste azioni che non sono così positive e che non vanno a beneficio assolutamente nostro, ma nemmeno degli altri, ecco che a un certo punto nasce un karma le cui conseguenze dovremmo poi affrontare, quindi è proprio la sete di esistenza che genera poi le conseguenze karmiche alle quali dobbiamo andare incontro e anche la sete di non esistenza è una volontà che genera delle conseguenze, infatti noi diciamo che quando uno si lascia andare incontrerà comunque delle conseguenze che saranno ovviamente non così soddisfacenti, vuol dire proprio abbandonare il senso della vita e abbandonare la nostra presenza nella vita quotidiana, il rapporto con gli altri eccetera, infatti quando si parla di suicidio ad esempio, il suicidio è un atto di desiderio egoistico, la gente pensa che chi si uccide si uccida perché vuole rinunciare alla vita, in realtà è talmente insoddisfatto della propria esistenza che pensa che non abbia più senso vivere, ma non tiene conto chi si suicida dell'importanza della sua vita per gli altri, quindi è un atto estremamente egoistico il suicidio, perché noi non pensiamo mai quanta utilità può avere la nostra presenza per qualcun altro, anche solo dal punto di vista che so io, della vicinanza, dell'energia che trasmettiamo, delle informazioni che possiamo trasmettere, gli altri sono importanti per noi proprio perché senza gli altri noi non potremmo vivere. E poi però il suicida a un certo punto non pensa a quale conseguenza il suo suicidio può a un certo punto portare anche dello squilibrio e della sofferenza dell'altro. e dunque è veramente un atto egoistico e sicuramente è un atto che genera anche per lui delle conseguenze karmiche. Quindi quando uno dice non desiderio, il non desiderio è un'azione karmica che può avere delle influenze anche negative e anche conseguenze. Se noi pensiamo che il desiderio nella nostra vita ha determinato tante situazioni che sono nate e poi si sono trasformate, pensate un po' voi chiui che siete presenti e anche quelli che sono a casa che stanno ascoltando. Pensate a quante volte avete desiderato qualcosa, lo avete anche ottenuto e poi lo avete trascurato, poi lo avete abbandonato, poi avete desiderato qualcos'altro, questo è l'esempio più probante, no? Abbiamo avuto infiniti desideri e abbiamo cambiato mille volte idea. Ed è proprio qui che si creano quelli che vengono chiamati nuovi mondi, no? I mondi dello spirito. Ogni volta che io ho un desiderio spero in un mondo migliore, in un mondo nuovo e poi a un certo punto la sofferenza mi porta a cambiare perché la realtà di questo desiderio perde peso per me, allora io affronto un nuovo mondo, credo di affrontare una nuova vita e invece faccio sempre la solita vita che è fatta proprio di desiderare, realizzare, vivere fino a un certo punto questa realizzazione e poi vederla dissolversi nel cambiamento. Dunque noi siamo sottoposti alla pressione dei nostri desideri e delle nostre aspettative, delle nostre tendenze, no? In qualsiasi momento della nostra vita. E dice il buddismo anche la rinascita è un effetto carnico, vuol dire che noi abbiamo prodotto un'energia che ci ha portati a rinascere. E nella tradizione buddista tibetana, quando si parla del bardo, lo stato intermedio tra la vita e la morte, a un certo punto la coscienza, il continuo mentale del soggetto che è morto, corre alla ricerca di un'altra esistenza, spinto dal karma. Dunque vuol proprio dire che noi non siamo capaci a non desiderare, abbiamo sempre questa sete di esistenza che ci porta, nel caso del bardo, a rinascere fisicamente, nel caso della vita di tutti i giorni a cercare sempre nuove esperienze. E certamente in questo caso avremo l'occasione di avere queste nuove esperienze, ma così come non siamo stati soddisfatti dalle esperienze precedenti, perché poi si sono trasformate e hanno cambiato, anche quelle nuove seguiranno la stessa dinamica, ma noi non ci crediamo, noi ci illudiamo invece che tutto cambia, tutto cambia, ma non in meglio, tutto cambia nella dimensione della sofferenza, perché tutto si trasforma e non sarà mai, anche le cose più belle che noi abbiamo non saranno mai eterne. Leggevo proprio, credo, non so se era oggi, un articolo di una mamma, adesso qui poi qualcuno piangerà, comunque, ma di una mamma che ha allevato i suoi figli e a un certo punto i figli hanno studiato, tutti bravi, famiglia modello, eccetera, eccetera, e poi i figli sono andati all'estero per lavorare e questa mamma esprimeva la propria disperazione, quindi abbiamo alcune di queste mamme che sono già qua che piangono, ma la verità è proprio quella lì, questa signora diceva questa cosa, diceva io i miei figli li ho allevati, me li sono coccolati, me li sono tenuti, li ho fatti crescere bene, eccetera, e adesso il destino me li toglie, la necessità di lavorare, eccetera, vanno via e io resto una mamma sola, ecco qua, che nel momento in cui tu hai questi figli e te li puoi coccolare e li cresci bene e sei soddisfatto e sei beato, tutto va bene, ma poi questi crescono e hanno delle necessità, vanno incontro a una vita che certamente non sarà né la nostra né simile alla nostra, vivono un'altra realtà in un'altra dimensione e noi soffriamo, ecco che questa mamma soffre, diceva, questa signora diceva addirittura lo Stato mi ha tolto i miei figli perché non gli ha dato il lavoro, quindi questi sono andati via, e questa è la realtà, intanto abbiamo sempre bisogno di trovare un capo respiatorio, perché non abbiamo la presenza, io direi a questa signora se potessi risponderle, che a un certo punto questa è la naturale evoluzione di questa realtà dei figli, i figli a un certo punto avranno anche l'interesse, il desiderio o necessità di vivere un altro tipo di esistenza e le madri invece sono attaccate, eccola che l'attaccamento ti porta a soffrire perché i figli vanno via, questi pezzi e core dovremo poi riuscire in qualche modo a riuscire a surrogarli con qualcos'altro, però la realtà è quella, abbiamo allevato questi figli con tutto l'amore possibile, ci siamo augurati che potessero essere felici eccetera eccetera, adesso che vanno essere felici da un'altra parte non ci va più bene, non ci va più bene perché siamo noi che soffriamo e quindi siamo infelici, questa situazione chiaramente è proprio significativa, facciamo tante cose nell'illusione che eternamente ci portino la soddisfazione, quando le cose diventano insoddisfacenti per noi crolla il mondo e crolla tutto il nostro mondo e quindi questa è la situazione perché noi abbiamo la tendenza non solo a gioire delle cose ma abbiamo anche tendenza ad attaccarci, se noi fossimo in grado di gioire per le situazioni ma poi comprendere la loro dinamica a un certo punto non saremmo delusi, forse guardo le mamme qua in lacrime piangeremo meno, questo è il discorso, la consapevolezza ci porta ad accettare le situazioni, invece no perché noi ci attacchiamo alle circostanze e allora quando ci troviamo in una circostanza piacevole pensiamo sempre che debba essere eternamente presente nella nostra esistenza e non ci rendiamo conto invece che l'obiettività e soprattutto l'osservazione di quello che succede e che è successo nella nostra vita ci deve far capire il senso della trasformazione del cambiamento, non accettiamo il cambiamento e questo si chiama proprio attaccamento, quindi quando c'è questa sete succede naturalmente che ci sia come conseguenza la sofferenza e quando non c'è questo attaccamento succede invece che noi riusciamo ad essere più equilibrati, se non c'è attaccamento i nostri pensieri sono più sereni perché siamo più distesi, non abbiamo le aspettative, non abbiamo la sete di esperienza, lasciamo che le cose fluiscano e allora in questa dimensione non produciamo carne perché tutto è livellato, non facciamo, non creiamo pensieri negativi dovuti all'ansia e all'angoscia, non facciamo azioni negative, non diciamo parole negative, quindi tutto è tranquillo, in questa tranquillità il karma non è prodotto e quindi non ci sono spinte ad eventuali azioni ancora più negative. quando la nostra mente è travagliata, quante ne pensiamo? E adesso farò così e dirò così e quell'altro mi risponderà e io dirò quest'altra cosa, insomma ci facciamo dei film enormi e questi film ci rovinano l'esistenza, dunque dobbiamo saperci liberare. Le azioni, dice il buddismo, possono essere di tre tipi, virtuose, positive, non virtuose, che avranno senza altro conseguenze negative, oppure neutre e le azioni virtuose non hanno soltanto la funzione di farci vedere quanto siamo bravi, ma hanno anche un peso importante nel miglioramento di noi stessi, perché se io mi comporto in maniera positiva a un certo punto questa positività diventa spontanea e io certamente miglioro il mio modo di pormi nei confronti della vita e delle cose, miglioro anche per la società che mi circonda, mentre invece le azioni non virtuose portano al contrario, cioè io mi comporto in una maniera distonica, mi comporto in una maniera che non è utile né positiva per gli altri ed ecco che a un certo punto le conseguenze coinvolgeranno me e tutti quelli che mi stanno intorno. Cioè un'azione positiva genera un'energia che va a beneficio di tutti, per contro un'azione negativa crea distonia tutto intorno a me e va anche naturalmente a detrimento di quelli che la subiscono queste azioni. È ovvio che le azioni neutre non migliorano e ne peggiorano le situazioni, però noi siamo capaci di essere così neutri, in genere assumiamo subito una posizione, non riusciamo a essere obiettivi, non riusciamo a essere distaccati, abbiamo anche questo desiderio di protagonismo e quindi molto spesso la nostra neutralità va a farsi benedire nel nome dell'esibizionismo. Il buddismo dice che le azioni virtuose e non virtuose sono divise in tre gruppi, le azioni fisiche, le azioni verbali e le azioni mentali. Quindi abbiamo dieci tipi di azioni divisi in tre gruppi. Nelle azioni fisiche noi abbiamo uccidere, rubare e avere una scorretta condotta sessuale. Nelle azioni mentali noi abbiamo ad esempio la menzogna, abbiamo il seminario di tizzania, abbiamo il parlare male degli altri e anche parlare avvanterla. mentre invece nelle azioni mentali dobbiamo pensare a non nuocere agli altri, mentre invece noi normalmente tendiamo a nuocere e poi dobbiamo abbandonare le visioni errone e non avere attaccamento per le cose. Queste sono proiezioni mentali. Quindi riassumo perché magari ho fatto una piccola confusione, ho parlato di azioni fisiche, poi ho parlato di azioni verbali e poi ho parlato di azioni mentali. Le azioni fisiche evidentemente hanno certamente una parte importante nel nostro comportamento perché se noi a un certo punto abbiamo una condotta scorretta, che sia sessuale o no, ma dal punto di vista proprio della relazione con l'altro, generano senza altro conseguenze immediate. Se io direttamente mi pongo in maniera dura e ho un comportamento violento, l'altro non è recente, l'altro lo patisce. È chiaro che ad esempio se noi vogliamo parlare di corretti comportamenti, dobbiamo pensare che tutte le azioni, queste sono azioni che a un certo punto possono portare a delle conseguenze negative perché sono azioni che noi consideriamo non virtuose, ma se facciamo il contrario, cioè ci comportiamo in maniera virtuosa, ecco che non uccidiamo, non raccontiamo delle frottole, certamente avremo un comportamento sessuale coerente, certamente non mentiremo, saremo sinceri, essere sinceri è anche abbastanza difficile perché bisogna sapersi assumere la responsabilità delle proprie affermazioni. Ad esempio non dire parole che possano offendere, quante volte invece ci viene in mente come reazione a una situazione subito di essere offensivi e quindi non usare queste parole dure, ma essere gentili anche nel nostro modo di parlare e nei contenuti delle cose che diciamo. E poi per quello che riguarda l'atteggiamento mentale, l'attaccamento agli oggetti, alle cose, alle persone che ci portano senz'altro a soffrire, ma noi possiamo anche considerare le cose che ci appartengono e alle quali siamo molto legati senza uno specifico attaccamento, ma con grande amore e grande disponibilità. Io penso che ad esempio condividere gli oggetti che ci sono cari, con gli altri sia un'altra dimostrazione di apertura nei confronti del prossimo, invece l'attaccamento che ci impedisce di condividere, anzi ci impedisce addirittura di far vedere le cose, crea già una separazione. Invece se una cosa mi piace e io la faccio vedere gli altri senza paura che me la prendano, allora a un certo punto la condivido e si crea un'atmosfera positiva. Quindi anche questo modo di relazionarci cercando di fare partecipi gli altri alle cose che noi abbiamo è un atto assolutamente virtuoso e positivo. Non essere aggressivi ad esempio, non pensare anche aggressivamente alle cose, non vuol mica dire che dobbiamo evitare assolutamente di prendere per il collo il prossimo, ma anche dobbiamo nemmeno pensarlo e dobbiamo invece pensare di essere sempre molto gentili nei confronti degli altri e sviluppare l'amorevole gentilezza. Diventa difficile, sì, certamente che diventa difficile, specialmente con i nostri acerrimi nemici, anche con i familiari, in famiglia. L'altro giorno non mi ricordo più con chi parlavo e dicevo, bene, allora c'è una conferenza, invitiamo il nostro amico e sua sorella. Dice, eh no, perché hanno litigato non si parlano più. Allora chi invito? E quindi questo succede, non soltanto con le persone estrane, ma all'interno della famiglia non ci si parla più. Ci sono delle famiglie in cui non ci si parla più da dieci anni, è vero. Questo magari succedeva in epoche molto lontane, perché adesso ho l'impressione che in famiglia non ci si parla più da subito, c'è poco dialogo e è difficile dialogare. Però io credo che anche l'amorevole gentilezza sia un modo di vincere naturalmente la nostra tendenza a nuocere all'altro o quantomeno non essere gentili con lui, non essere disponibili per fare in modo che sia felice. E questo dovete pensare che nel buddismo il termine amore vuol dire volere che tutti siano felici. Quindi amore non vuol dire possedere, cercare di avere un rapporto di scambio, ma vuol dire augurare che tutti possano essere felici, che l'altro possa avere la sua felicità. Quindi questa è una grande dimostrazione di apertura, di disponibilità. Qui c'è un concetto abbastanza difficile, perché secondo il buddismo il mondo ha due aspetti. Il contenente, quindi la terra, l'ambiente, la natura e le cose, e il contenuto, cioè gli esseri che vi abitano. Ma questo mondo è creato dalla mente. Quindi è la nostra mente che ci fa vedere le cose come le intendiamo noi. E non è la mente di un solo individuo che crea al mondo, ma è la mente di tutti gli individui. E quindi quello che noi vediamo intorno a noi è il prodotto della creazione della mente di tutti gli esseri, tutti gli individui. Ma invece dal punto di vista nostro personale, la mente di ognuno di noi produce in parte il mondo condiviso, cioè abbiamo detto che tutti producono il mondo, anche noi produciamo una parte di questo mondo. Ma in parte produce invece il nostro individuale, personale mondo, che molto spesso, proprio per le ragioni che abbiamo detto prima, gli attaccamenti, eccetera, è un mondo di sofferenza. Quindi quando parliamo di rinascita nel buddismo, parliamo di uno stato personale di trasformazione, ma parliamo anche delle condizioni del mondo in cui noi rinasciamo. Perché se io faccio parte di una dimensione esistenziale, non sono soltanto quello che ne usufruisce, ma contribuisco anche a realizzarla. E quindi se io sono equilibrato e positivo, contribuirò a creare un mondo equilibrato positivo. Se invece sono disperato, aggressivo e insoddisfatto, creerò una vibrazione distonica che avrà delle conseguenze. Quindi noi dobbiamo sapere quando ci comportiamo che a un certo punto siamo condizionati da tanti elementi che ci spingono a avere questo comportamento. E nella fattispecie noi abbiamo come spinta al comportamento il nostro karma, cioè le conseguenze di azioni che abbiamo generato in precedenza, e i fattori mentali impuri. Cioè noi quando abbiamo le nostre paturnie, la nostra mente è presa dai suoi film, e questi film sono quelli che condizionano la nostra esistenza. E abbiamo, dovremmo avere anche tanta consapevolezza quando parliamo del karma, perché il karma non è che si realizza in un attimo. Ci vogliono almeno quattro condizioni perché il karma si realizzi. E quindi noi abbiamo quattro fasi da controllare del nostro comportamento, prima di arrivare a far maturare un'azione karmica. Però purtroppo noi non ne controlliamo proprio nessuna. perché noi quando facciamo un'azione dobbiamo avere un riferimento che viene chiamato la base, no? Voglio dare uno schiaffo a uno, la prima cosa che devo avere è che ci sia quello lì, perché non c'è, la base manca, manca la base, no? Poi devo avere la motivazione, no? Cioè io sono spinto a fare una cosa da un ragionamento, da un atteggiamento mentale. Cioè mi trovo una scusa per poter fare questa azione. Quindi quello lì è lì, ed è già la base perché è presente. In più io mi devo inventare una scusa o devo trovare comunque una motivazione che mi porti a fare l'azione. Poi ci vuole la determinazione. La determinazione è il fatto che io so che voglio dare uno schiaffo a quello. No, quello può essere, può stare davanti a me per una vita, no? Se io non ho questa determinazione di farlo, non lo farò mai. E poi bisogna compiere l'atto in sé, cioè dare di questo schiaffo. Quindi pensate un attimo, quanti passaggi ci sono dal momento in cui io sviluppo l'intenzione di dare uno schiaffo, di nuocere a qualcuno. Adesso ho fatto l'esempio dello schiaffo. Ognuno di voi avrà i suoi esempi da fare, no? Troverà degli elementi per riconoscere che questo processo si sviluppa proprio così. Allora, io ho sempre tempo per fermarmi, no? E invece no, anzi. Quello che mi sta davanti, più mi sta davanti e più la mia mente mi dice che gli devo dare lo schiaffo. Non è che dico, ah poverino, magari non glielo do. No, perché la mia mente, no? Avendo l'oggetto davanti, mi porta a sviluppare un'azione. No, lei dice, beh, adesso ho questo schiaffo. Allora, per quale ragione gli do questo schiaffo? Ognuno ha le proprie ragioni. Però, quando pensiamo alla motivazione per cui dobbiamo dare lo schiaffo, ecco che la nostra mente parte. Cioè, ci stiamo facendo un grosso film su questa storia e ci carichiamo sempre di più. Non è che noi diciamo, ah, gli devo dare uno schiaffo perché questo qua mi ha pestato un piede sulla metropolitana. No. Noi, nel momento in cui diciamo, gli devo dare uno schiaffo è, mi ha pestato il piede sulla metropolitana, l'ha fatto apposta. Ce l'aveva con me e mi voleva rovinare la mia scarpa di vernice. Cioè, ci mettiamo di tutto pur di dargli questo schiaffo, no? Allora, a un certo punto, ecco che abbiamo ancora la possibilità di fermarci, no? Se non siamo capaci di trovare la motivazione vera per cui vogliamo fare le cose, scopriremo sempre che è molto relativa, non è poi così importante. Però noi non ci fermiamo mica. Cioè, noi abbiamo lì davanti uno, pensiamo che deve andare a schiaffo, ce l'abbiamo con lui, non facciamo un controllo della situazione vedendo il processo di come si svolge. Siamo spontaneamente portati ad essere troppo veloci nelle nostre azioni. Quindi poi sviluppiamo anche l'atto. Compiuto l'atto, ci vuole un altro elemento altrettanto importante, oltre all'atto, che ci porta a capire se siamo nella produzione di karma o meno. Il pentimento o la soddisfazione di aver fatto l'atto. Capisco che ho commesso un errore, capisco che mi sono comportato male, eccetera, oppure no? Oppure sono soddisfatto di colori farei? Perché a quel punto vuol dire che sono completamente cieco. Questa è la storia, è la storia. E dunque, vedete quanti passaggi ci sono prima di arrivare alla produzione completa, matura del karma. Ma noi non siamo molto pronti a fare queste valutazioni, siamo troppo spontanei. Partiamo e poi non riflettiamo. Non riflettiamo nemmeno quando abbiamo fatto l'atto. E non riflettiamo nemmeno quando questo atto, a un certo punto, ha delle conseguenze pesanti per noi e per gli altri. Sera. E quindi questa è la situazione. Dunque, pensiamo un momento al risultato dell'atto che facciamo. Molto spesso i risultati, quindi le conseguenze, sono decisamente superiori alle ragioni che hanno determinato questo atto. se sulla metropolitana due si urtano, ci vuole niente per scatenare una reazione, ci vorrebbe anche niente per lasciar perdere, perché magari ci si urta perché il vagone della metropolitana fa una curva e noi non siamo molto stabili sui piedi in quel momento, però subentrano degli altri fattori. Cioè il tipo che è vicino a me, che io manco conosco, ma che è già uscito di casa arrabbiato con sua moglie o con suo figlio per delle ragioni che io non conosco, ma che sta farneticando per conto suo, nel momento in cui una metropolitana sbanda leggermente e io gli do un colpo di gomito, questo scarica su di me l'attenzione dei suoi pensieri. e quindi mi coinvolge. E quindi non diventa più un fatto personale suo il problema che lui ha con la moglie e col figlio. Perché? Mi viene a investire la mia presenza lì in quel momento. E se io non sono più che presente, sentendomi aggredire, forse insultare, rispondo. Ed è da questa reazione che si sviluppa una conseguenza ancora più grande della ragione per la quale il Signore stava farneticando per conto suo. Perché in quel momento si genera un'energia su questo vagone della metropolitana che coinvolge anche tutti gli altri. Quindi ecco che da un nulla le conseguenze di un'azione possono avere un peso decisamente superiore alle ragioni che l'hanno determinata. Pensate a quando seminiamo una pianta. Cioè abbiamo un semino che è grosso così, lo mettiamo lì sotto la terra, poi meno male lo curiamo, non lo so, dipende da chi ha il pollice verde o non ha il pollice verde, ma da questo seme nasce qualsiasi cosa. Può nascere una pianta di violette, c'è il seme delle violette, ma c'è il seme di una quercia, nasce una quercia. Pensate quanto enorme è la conseguenza della semina, di questo piccolo semino. E noi dobbiamo vedere questo in positivo e in negativo nel nostro comportamento. può generare conseguenze inimmaginabili. Il tipo che mi ha urtato in metropolitana aveva i suoi problemi e ha reagito male nei miei confronti. Io gli ho risposto, esco dalla metropolitana incavolato nero e me la prendo con il primo capino che passa. Ed ecco che a un certo punto la cosa si espande e naturalmente nessuno pensa che forse bastava non avere quella reazione lì sulla metropolitana, ma come vogliamo tutti. Io arrivo a lavorare che sono agitato perché quello lì mi ha fatto girare le scatole, creo un'atmosfera stesa nell'ufficio, vivo delle ansie che prima magari non avevo nemmeno preso in considerazione, ma che in quel momento preso dalla mia fantasia agitata appaiono. Quindi direi che queste azioni che sembrano minime e poi producono delle conseguenze ad un peso non indifferente. Dobbiamo capire che c'è bisogno di equilibrio in queste cose, dobbiamo sapere che la base, la motivazione, la determinazione e l'atto si svolgono in tempi successivi e si può sempre fermare l'azione in qualsiasi momento e dobbiamo anche sapere che all'ultimo minuto, pur avendo fatto l'atto, possiamo anche pentirci. E questa è una purificazione. E se invece non ci pentiamo è un'esaltazione della nostra condizione negativa e sicuramente un seme di nuova sofferenza perché genereremo altre condizioni di sofferenza. Quindi se noi non realizziamo l'atto, non realizziamo la conseguenza. E su questo dobbiamo essere presente. Non avverrà mai una realizzazione. Quindi se noi tutte le volte che sviluppiamo un pensiero o abbiamo un comportamento, capiamo che qualsiasi azione porta inevitabilmente un risultato, allora chiediamoci quale risultato porta questa azione. E già riflettere sul tipo di risultato ci potrebbe portare a ravvederci o a limitare il nostro comportamento. Se no, ecco che a un certo punto produrremo delle forze che generano sofferenza. E tra le forze che producono sofferenza figurano ad esempio principalmente le illusioni. Le illusioni nascono dalla confusione, è chiaro, perché se avessimo le idee chiare non ci illuderemo mica. Noi ci illudiamo solo quando non abbiamo ben presente la situazione. Siamo noi che costruiamo sul nostro desiderio una situazione che poi è elementale ma non è reale, perché in genere non corrispondono mai bene. No? Quindi noi non vediamo mai le cose come sono nella realtà. Anzi, siamo portati sulla spinta del nostro desiderio a vedere le cose come non sono. Vederle crescere dentro di noi fino a diventare cose così diverse ma così importanti per noi che anche quando si dovesse realizzare la cosa che abbiamo desiderato non siamo più soddisfatti perché non è come l'abbiamo vissuta noi, non l'abbiamo voluta vedere noi. Quindi la mente ha un lavoro, dando la mente sviluppa un lavoro costante. Noi abbiamo una serie di pensieri uno dietro l'altro che ci portano a far nefficare diciamo 24 ore su 24. Ma pensiamo che questi pensieri appesantiscono la nostra mente. Quando non siamo equilibrati diventiamo cupi, diventiamo scontrosi, ci chiudiamo e quindi in quel momento la nostra mente non è presente, non ha la consapevolezza della realtà. Noi abbiamo due modi di percepire il fenomeno, un modo grossolano e un modo sottile. Bene, io direi che la maggior parte delle volte è il modo grossolano, cioè la confusione che gestisce la nostra mente. Il modo sottile è la chiarezza. Quante volte abbiamo chiarezza nella nostra mente? La mente è poca. Perché? Perché avere chiarezza mentale vuole anche dire vedere la realtà delle cose che qualche volta non ci piacciono. E allora preferiamo illuderci come queste cose cambino. E quindi ecco che il peso, poi abbiamo detto, ha un peso. Certo che ha un peso. I nostri pensieri negativi pesano come dei macigni nella nostra mente insoddisfatta e quindi trasformano. Le nostre illusioni ci fanno sempre vedere le cose in maniera grossolana. Ecco che a questo punto anche le nostre conseguenze, le nostre azioni, le nostre parole diventano grossolane. Se noi avessimo la luce dentro di noi, tutto sarebbe più chiaro, sarebbe più dichiarabile, sarebbe più evidente. Invece quando abbiamo la confusione è tutto incontrollabile ed è inaspettato. Nella confusione può nascere qualsiasi tipo di azione. E ricordiamoci bene che la confusione è la base dell'azione, questa è la ragione per cui, no? Quando io mi illudo è perché io sono pronto a qualcosa, mi aspetto a qualcosa. Il buddismo dice che ci sono sei illusioni radice. Cinque sono illusioni non concettuali e una è legata alla concettualizzazione. Quindi le illusioni radici non concettuali sono, primo, la confusione, quindi l'oscuramento mentale che non ci fa vedere chiaramente la natura degli avvenimenti. Secondo, l'avversione. L'avversione non la sviluppiamo solo verso gli altri, tante volte sviluppiamo anche avversione verso noi stessi, quando non siamo soddisfatti, non ci piacciamo. Ci illudiamo di essere in un modo e poi ci specchiamo e diciamo, mamma mia, come sono diverso. E allora lì giù delusione. Terzo, il desiderio, l'attaccamento. L'attaccamento che è sicuramente attrazione verso l'altro, ma anche verso noi stessi. Quindi il desiderio dell'attaccamento ci fa considerare le cose come ottimali per noi e ci fa provare senz'altro l'aspirazione ad ottenerle e non ci fa vedere invece gli aspetti anche magari di fragilità che potrebbero avere i nostri desideri, i nostri attaccamenti. La relatività degli oggetti dell'attaccamento. E questo poi ci porterà a soffrire. E poi abbiamo l'orgoglio. L'orgoglio è senz'altro un fattore che ci porta a considerarsi diversi dagli altri. L'orgoglio è un fattore di separazione. E io abbinerei all'orgoglio la presunzione. Anche la presunzione è un fattore di separazione. Ci consideriamo diversi e migliori degli altri. Quindi l'orgoglio e la presunzione ci portano a pensare di essere sempre nel giusto e gli altri no. Ragione io. E questo naturalmente crea conflittualità. E poi un altro elemento, il quinto, che è prodotto da una illusione non concettuale è il dubbio. Il dubbio naturalmente nasce dall'illusione. Perché io ho un dubbio? Perché mi sto illudendo che in un certo modo. Se io avessi la certezza, non mi faccio nessuna illusione e vivo nella fiducia. Anche se non ho la certezza, allora mi creo l'illusione. Per quello che riguarda invece la sesta illusione radice, qui si parla di visione erronea. Cioè la visione erronea ci porta a mescolare le visioni, no? E delle cose. E si divide in cinque parti. Primo, la visione del sé come un essere naturalmente eterno. Ognuno di noi pensa a un sé che esiste eternamente. Anzi, vogliamo esistere eternamente, non è che pensiamo. Vogliamo esistere eternamente. E vogliamo che le cose positive che ci riguardano esistano eternamente. Non abbiamo capito la questione della famosa ciclicità che ho spiegato prima. Tutto nasce, si sviluppa, raggiunge un vertice. Poi comincia a declinarla. E poi si trasporta. E noi non accettiamo la trasformazione. Il buddismo dice che un'altra delle visioni erronee è non credere che ci siano le vite passate. E ovviamente nemmeno credere che ci sono delle vite future. Allora, io direi che questo discorso lo possiamo senz'altro considerare in una chiave di reincarnazione, visto che stiamo parlando della rinascita in termini buddhisti. Però, possiamo anche parlare di vite come esperienza. Rifiutare le esperienze passate e pensare che le esperienze future saranno come le vogliamo noi. Questo è un bel modo di illuderci. un altro punto è quello delle azioni. Non credere che ci siano delle azioni non virtuose. Tutto va bene. Io, proprio in virtù della mia presunzione, mi comporto in maniera assolutamente libera. E non tengo conto della sensibilità dell'altro. Io ho sempre ragione. Quindi le azioni che faccio io non sono mai negative. C'è sempre positività. Oppure, sempre spingi dalla presunzione, pensare che siamo infallibili. Le mie convinzioni sono radicate e sono serree. Quindi non sono assolutamente contrastabili. E poi c'è un altro punto interessante, che è quello di considerare etico il comportamento ascetico estremo. Questo mi piace già di più. Cioè, anche lo stesso Buddha a un certo punto rifiutò di vivere nella grotta come gli asceti dell'epoca, eccetera, ma dopo aver trascorso diversi anni in solitudine, decisi di tornare nella società e di cominciare a fare un percorso di crescita che si sviluppasse in un altro modo. Ebbene, tutte le cose che sono estreme, qui parla dell'ascetismo, ma possiamo anche parlare di un comportamento che non ha niente di razionale. Cioè, quelli che hanno i comportamenti estremi da tutti i punti di vista, che pensano che a un certo punto la propria idea di comportamento sia sempre la migliore, anche se a un certo punto, che so io, può portare a delle conseguenze che sono anche dannose. Pensate a quelli che hanno delle malattie che portano ad avere un'alimentazione non controllata, così, uno che mangia troppo o uno che mangia meno, che mangia poco. Ed è convinto che sia così, sono quelli che poi si ammalano. Quindi, a un certo punto, queste sono le cause della sofferenza. Ne abbiamo abbastanza? Vi siete addormentati quanto basta? Sì, ci sono ancora degli altri elementi, si parla degli aggregati, si parla della... sto cercando di solteggiare un po' perché abbiamo già trattato l'argomento in modo, credo, sufficiente per capire bene da dove nasca la sofferenza. C'è un esempio che viene fatto per quello che riguarda recidere le cause della sofferenza. Allora si dice reciderle completamente e definitivamente. Completamente vuol dire magari recidere lo stelo di un fiore oppure tagliare il tronco di un albero senza togliere le radici. A un certo punto abbiamo eliminato alla superficie la pianta, ma le radici continuano a produrre e a un certo punto verranno fuori nuovi germogli. Definitivamente vuol dire togliere le radici in modo che non ci sia nessuna possibilità che le radici producano una conseguenza. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare noi per le nostre azioni negative, quelle che ci fanno soffrire. eliminiamole completamente e definitivamente, perché se noi non siamo in grado di fare questo lavoro e pensiamo sì di averci messo una pietra sopra, ma non abbiamo eliminato il problema della nostra mente, prima o poi, noi vediamo che ci sono delle pianticelle che crescono dentro la roccia, abbiamo delle pianticelle, anche qua, qui fuori, adesso è buio, voi non lo potete vedere, ma ci sono delle pianticelle che crescono in mezzo alle grate che proteggono le finestre, non c'è terra, non c'è niente, nessuno le ha coltivate, eppure quelle sono rigogliose, vengono su, perché hanno le radici che tengono, no? Ebbene, quante volte i nostri preconcetti, le nostre tendenze negative mettono delle radici così forti che non riusciamo a eliminarle. E ricordiamoci che se noi non tagliamo completamente e definitivamente le cause della nostra sofferenza, certamente nuovi germogli cresceranno e allora avremo queste conseguenze da affrontare. Io direi che con questo possiamo chiudere questo intervento sull'origine della sofferenza, la prossima volta vedremo come si fa a eliminare la sofferenza.